Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Una maxi di scarica abusiva, quella che sorge in pieno centro ad Avellino, diventato un incubo per i cittadini. I residenti della zona, tra via Campania e via Vasto, un'area molto frequentata, poco distante dal tribunale, oltre a fare i conti con l'impressionante montagna di rifiuti di ogni genere, diventata covo di grossi ratti e serpenti, temono che, considerando l'entità e l'esposizione del ricettacolo, qualcuno possa dare fuoco al materiale facilmente infiammabile. Il fronte di ingombranti è talmente esteso da immadere anche la strada, rubando posto e parcheggi. La discarica sorge tra il cantiere di un fabbricato all'ingresso di un garage. Un sito abbandonato, diventato meta di sversamenti e scarichi di scarti di mobili, elettrodomestici, bidoni, ferrivecchi, pneumatici, indumenti, divani, scatoloni e persino pezzi di auto. Come se non bassasse, c'è anche chi alimenta la discarica con l'immancabile lancio di sacchetti di spazzatura. Di sera avvertono i cittadini, sentiamo rumori di furgoni che vengono in zona a scaricare di tutto l'immondezzaio situato al centro di Avellino. Non è solo un pugno nell'occhio, aggiungono i residenti, ma d'estate diventa una mina vagante per la salute e c'è il timore fondato che i noti possono dare fuoco alla montagna di rifiuti pericolosi.